Grande calcio giovanile, sabato 1 e domenica 2 settembre, sull'asse Pordenone-Prata. Il Pordenone Calcio proporà la prima edizione del trofeo nazionale Molino di Pordenone, riservato alla categoria allievi. Oltre alla formazione nero-verde, nella destra tagliamento si potranno ammirare i baby talenti classe 97 di Milano e Atalanta, due dei vivai più importanti d'Italia, di Chievo Verona, Udinese e Padova, tre delle migliori realtà del Triveneto. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Il sindaco, una nuova iniziativa, un nuovo torneo, squadre importanti, sicuramente una bella novità per Pordenone. Una bella novità che secondo me deve essere l'inizio di un percorso, di un vero e proprio progetto. Abbiamo necessità, lo sappiamo per definizione, di razionalizzare questo fronte delle manifestazioni giovanili, in particolare in quelle del calcio. Credo che Pordenone Calcio debba diventare il punto di riferimento, l'unico punto di riferimento proprio nell'organizzazione di eventi come questo, giovanili, visto la qualità della struttura, la qualità delle persone che dal punto di vista tecnico gestiscono il Pordenone Calcio e la sicurezza che questo ci darebbe nell'organizzare eventi sempre più importanti che alla fine danno anche un ritorno alla città. Quindi mi auguro che sia questo non solo la presentazione di un evento importante, ma che sia l'inizio di un vero e proprio progetto che poi insieme andremo a fare su questo fronte. Al presidente del Pordenone Calcio Mauro Lovisa domandiamo le motivazioni di questa nuova iniziativa e l'importanza per la società di avere un simile parterra anche di squadre. Sì, ribadisco, si parlava un attimo fa, è una cosa che ho voluto fortemente io, questo torneo, perché credo che il dottor Zuzzi per quello che ha fatto per la città, per lo sport in generale, non solo per il Pordenone Calcio, meritasse un qualcosa e anni che dico a Giancarlo dobbiamo cominciare a organizzare anche noi come Pordenone Calcio qualcosa di importante e questo è solo, posso dire, un punto di partenza perché l'evento sarà ripetuto ogni due anni e puntiamo a far fra due anni un qualcosa di importante. Questo era solo, diciamo così, un antipasto di quello che sarà nei prossimi anni un torneo molto molto importante. Grazie a tutti.